buongiorno a tutti e benvenuti in questo vlogmas il mio primo vlog dedicato al periodo natalizio ora mi faccio un caffè e nel frattempo c'è lice che oggi è rimasta a casa tanto per cambiare e si pressi sta facendo la sua colazione buongiorno cosa fai alice come merenda colazione vorrei dire e cosa fa cosa mangi latte e brioche ok invece mamma adesso si fa un bel caffè ok a dopo e piove 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 ma non si vede come piove ma piove davvero no un pochettino si vede e piove piove e voi guardate come piove ma piove 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 il mio alberello alberissimo non alberello è un albero immenso sedia 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 c'è amore che c'è cosa c'è cosa vuoi vuoi la pappa vuoi la pappa c'è una scarpa a terra vuoi mangiarla ero tanto per cambiare ora ti faccio mangiare saluto a tutti ciao ciao a tutti eccomi qua ragazzi sto provando a registrare per la prima volta un get ready with me nel dentro il vlogmas perché comunque ritengo che sia una sorta di preparazione a tutta la mia giornata natalizia che mi aspetta spero che queste luci siano siano abbastanza sufficienti per quello che sto facendo ok io la mattina solitamente mi leggo i capelli mi lavo e poi continuiamo ciao allora io ho comprato per tutta questo il vendito della cn al needle mi torna abbastanza bene devo dire quindi adesso vado a farmi il peeling al dito e voilà mamma mia ragazzi che faccia ma a voi piacciono questi video io dico ma perché mi piacciono questi video e soprattutto perché lo sto facendo me l'avete chiesto quindi oggi lo faccio ciao amore mio è arrivata lice il mio telefono è questo allora mi lavo i denti con cosa mi lavo i denti con un dentifricio all'aloe della equilibra che ciccino ha comprato in supermercato dentifricio sbiancante in gel con il 30 per cento di aloe vera di succo di aloe vera e devo dire che mi mi trovo molto bene il 96 per cento di derivazione naturale delicato gusto menta denti bianchi non lo so quello che sicuro che sono freschi e puliti ok adesso passiamo invece alla crema da giorno che ho comprato sempre da lidl della cn face cream con granate che è praticamente una crema anti età al melograno della cn l'ho già provata e devo dire che al viso poi risulta subito asciutta quindi si assorbe immediatamente mi dà un effetto quasi un effetto matte sulla pelle e mi posso ritenere soddisfatta anche se avrei preferito una crema ancora più fresca sul viso anche Alice si sta mettendo la crema la lascio asciugare un pochino e continuiamo dopo ecco qua ho terminato di prepararmi scusatemi se poco fa avete visto tutta la mia testa praticamente quasi tutto il video tagliato così però non ho anteclime perché io registro con il mio cellulare quindi scusatemi adesso andiamo di la e andiamo a decorare la casa aspetta 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.